Quante cose sei. Ma chi sei? Non puoi entrare, Joana. Che c'è? Tuo padre con uno straniero. No, no, non ci sto. Pensaci bene. Potrai diventare ricco. Se non accetti, perdi l'ultima buona occasione. Allora, va bene. D'accordo. Chi è? Non ti mischiare. Mia figlia. Bene, a domani, le cose. A domani. Ciao, Joana. E il Mariche non è l'uomo giusto per te. Non ha nemmeno un centesimo. Chi è quello? Un mio buon amico. Un uomo molto importante. Fatma! Fatma! Voglio assolutamente sapere dove abita l'uomo che è uscito adesso. Va! Tu perché sei entrata? E tua madre che voleva? Mi stavate spiando, eh? Non importa. Il vento è cambiato adesso. E' come più l'uomo. Con l'uomo giusto? Sì, è un'ultima. Questa è un'ultima. E' come? Grazie a tutti.